Sì, complessivamente abbiamo fatto, secondo me, un'ottima gara. I ragazzi sono stati molto bravi, era una partita di altissimo livello. Da un punto di vista fisico, perché sono giocatori individualmente molto forti, da un punto di vista fisico, da un punto di vista tattico, perché hanno cambiato qualcosa, abbiamo dovuto rimodellare le cose rispetto a quello che magari avevamo preparato dall'inizio. Però, ripeto, i ragazzi sono stati bravi, hanno fatto delle letture giuste, abbiamo fatto, secondo me, molto bene. Come hai detto tu, abbiamo creato opportunità, abbiamo preso tante traverse, tanti pali, salvataggi sulla linea, non siamo riusciti a fare gol. Poi abbiamo preso questo 1-2 che poteva ammazzarci, però anche qui c'è stata una reazione importante, abbiamo messo là il Palermo, abbiamo fatto gol, potevamo pareggiare. Quindi, ripeto, complessivamente per me è stata una partita comunque positiva, c'è il rammarico di non aver fatto punti, però sono certo che comunque è la strada da percorrere, sappiamo che il cammino è ancora lungo, è complicato, come abbiamo sempre detto, però non dobbiamo mollare perché la prestazione c'è stata. Sì, sì, perché, ripeto, il 2-0 poteva essere una bella botta, invece abbiamo continuato a giocare come sempre, siamo riusciti a fare il 2-1 e poi abbiamo continuato anche nel tempo di recupero, quindi tutte cose molto positive, certo rimane, come ho detto prima, il rammarico di, nonostante una prestazione positiva, non portare a casa il risultato, ti lascia un po' di amare in bocca, però dobbiamo continuare così. Il cammino adesso riparte da Bari? Sì, come diciamo sempre, ogni settimana da preparare con grande attenzione, perché le partite sono tutte da giocare, da vivere, con grande intensità, con grande voglia, come stiamo facendo e dobbiamo perseguire nella nostra strada. Molto bene, perché poi in giornate come queste, dove piove, anche il riscaldamento diventa complicato, difficile, tutti quelli che sono entrati, che hanno giocato dall'inizio, hanno fatto le cose per bene, quindi, ripeto, dobbiamo continuare così. Grazie a tutti.